Allora bambine, dobbiamo fare un video oggi, perché poi domani lo facciamo in tempo, perché poi è l'ultimo giorno in cui saremo qui e poi si parte. Dopodomani si parte, quindi domani dobbiamo preparare le valigie, pulire casa. Ok, oggi è tutto facendo? E che ne so, giriamo un video dell'ultimo giorno qua? Che cosa facciamo oggi? Ci pensiamo? Potete darmi anche un suggerimento, eh? Ok, cucciolini, io in realtà ho idea di quale video fare, adesso mi sono nascosta in camera e ho deciso oggi di fare uno scherzo sia a Vanessa che ad Anastasia. Poi dovrò cercare di posizionare anche la telecamera da qualche parte per non far vedere che magari riprendo sempre in certi momenti e quindi lo scherzo sarà che io oggi piangerò per tutto il giorno, senza una vera motivazione. Mi sento così e quindi vediamo che reazione avranno Vanessa e Anastasia e se vi consoleranno, in quale modo lo faranno. Stai facendo merenda? Sì. Eh? Sì. Ma hai pensato che video fare? No. No. Dai, dobbiamo anche mettere un po' in ordine casa, eh? Ok? Quando hai finito di far merenda, per favore, mi dai una mano? No, no. Mamma, ma tutto bene? Perché? È una voce strana. Ma sì, no, tutto bene, tutto bene. Oggi mi sentivo un po' così, un po' stanca, eh? Ok. Ok, cucciolini. Anastasia sembra essersi accorta del mio malessere. Finto. E mi ha chiesto perché avessi questa voce, mentre di Vanessa, manco l'ombra, non sembra nemmeno si sia accorta della sorella che abbia chiesto appunto il perché io parlassi in questo modo. E' rimasta tranquilla sul letto a giocare. Quindi la prossima mia mossa sarà quella di bagnarmi con l'acqua e far credere proprio di star piangendo. Vediamo se anche Vanessa si accorge che io, insomma, non sto bene. Ok ragazzi, mi sono cambiata perché mi sono sporcata. Adesso mi metto un po' di acqua, sono in bagno, mi metto un po' di acqua sotto gli occhi e mi siedo a bere il caffè. Loro sono alle mie spalle, ho posizionato la telecamera davanti a me in maniera tale che si vedano anche loro e inizierò a piangere bevendo il caffè. Vabbè, gli occhi lucidi. Sono un po' ventata. Andiamo. Vabbè, gli occhi lucidi. Ma? 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 No, niente bimba, niente. Ma? Ma? Ok? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non lo so. Cioè, loro vedono la mamma che piangere e dicono ok? No, non lo so. Ma che caldo. Ma? Non ci. Ma? mamma, non succede niente amore mamma, che c'è? niente, oggi mi sento un po' così, forse... ma devi dire perché? non lo so, forse sono... ho un cedimento sai che perché? mi chiamo il pigliatra il pigliatra? ma come che è? il dottore il dottore, ma no amore è qualcosa che è dentro di me che non si può spiegare può capitare ci sono momenti in cui può capitare e allora vieni a vedere un film, no? no, è peggio è peggio, è peggio, è peggio, è peggio è tutto peggio comunque non vi preoccupate, eh? non ti preoccupare poi passano magari sono solo un po' stanca ma perché? cosa succede? non lo so adesso sto bevendo un caffè che magari mi tira un po' su è peggio 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 non lo so andate a giocare adesso mi passa vai a giocare ma vabbè fate finta di niente non ci pensate ma non lo so quindi andiamo a... vuoi per ghiaccio? no no andiamo a fare un giro dopo dopo andiamo dopo andiamo magari sei... dopo ti piaccio così magari sei tanto sei tanto magari per fare tanto magari per fare tanto sei presto può essere può essere sì perché no ma la medicina? no vuoi aria? vado a prendere un ventilatore no amore si sta bene qua c'è l'aria condizionata il ghiaccio è un antidepressivo magari sono un po' depressa guarda il pappadocio grazie grazie bello però eh piacevole vuoi un massaggio? sì dove è? tutto il corpo ho fatto un... ma la sveglia? cosa qua? aspetta mamma ghiaccio si scioglie qua grazie grazie hai freddo? no non voglio distraiarmi giocate bimbe grazie questo ghiaccio ci vedeva ah vuoi un gelato? no 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 grazie ho bevuto adesso questo caffè non sta perché sta bene magari è caldo ma non è caldo ma non è caldo ma non è caldo ma non è caldo metterlo in fronte non è caldo non è caldo mi sento ma non è caldo mi sento può essere sì quella cosa? qualcosa? no non si viene cosa sta facendo Vanessa? no non si viene a fame? posso la mia vita cucinare? pulire? Forse è questo, è la depressione. E vabbè, cosa vuoi fare? Niente, niente amore, niente. Passerà, passerà momenti, momenti di depressione. Ah, la nutella? Zucchero, mangio zucchero. No, 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 grazie, grazie. No, 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 no. Eh, ma lo zucchero, sale. La pressione sale con il sale, non con lo zucchero. Il zucchero è fatto, adesso è meglio. Sì, grazie. Comunque questo ghiaccio ci voleva, eh. Cosa fai? Sale, sale, magari mi tira un po' su. Poco o è una punta, eh? Bene, bene, bene. Quanto amore? Grazie. Grazie, bimbe. Prego, prego. Poi un cubetto. Ancora ghiaccio? Qui nel colo. Wow, mamma mia, no, 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 grazie. No! Ma, no, mi fai piangere di nuovo se fai così. Mi fai piangere di nuovo, andava tutto bene, stava andando tutto bene. Poi, ma, poi, 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 la finire? Sto meglio, grazie, 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 continuate a giocare, grazie, adesso sto un po' meglio, sto un po' meglio. Niente, amore, niente, amore, niente. Un ventilatore. No, grazie, grazie. Volevo giocare con il dash. Ma se l'ho fatto, vedi? Volevo giocare con il dash. E lo vuoi? Mi rifarezza. E lo vuoi? No. No. Sì, andate a giocare che io adesso devo andare a stendere. Ti mettiamo a pasta ancora? Sì, amore, magari se mi fate il letto, mi mettete in o... Chiudete il divano, chiudete il divano, magari mi date una mano, io magari divento un pochino più felice. Bravi, bambini, bravi. Bravi, bravi, bravissime, ma che cos'è questa cos'è qui, cos'è, un ciuffo, aiuto. Io, io. Bravi, bravissime, bravissime. E bravi, le mie bambine. Ma io, guarda, mi sta passando quasi tutto, quasi tutto, quasi tutto, quasi tutto. Mi vuole che vedi. No, amore, grazie. Bravissime. Bravi. Grazie. Sto quasi meglio, adesso però... Adesso ne fiscina? Devo stendere. Ragazzi, sta funzionando meglio di quanto mi aspettassi. Praticamente le bambine, vedendomi triste e depressa, mi aiutano a fare i lavori di casa. Quindi adesso dovrò stendere e anche lì sarò disperata. Vediamo che cosa succede. Che cazzo mio... Ok, ragazzi. Bimbe sono dietro, poi giocano, e adesso stendo queste cose che ho lavato. Stendo queste cose che ho lavato, mi è tornata la depressione, sto stendendo, mi è tornata la depressione. Ma devi so stendere. No, 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 no. Tanto voglio. Volete farlo voi? Sì, lo canto. Tanto e poco, avevo fatto poco, povere un fare, che deve essere. Lo sapevo, lo devo fare io. Non, 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 non... Ancora adesso, ancora, non ce la fai, ride, ride, ride. Sfacca da dare le cose pulite a Pompena, vai? Faccio un video primo. Quattro, guarda. Che brava Buona Oh mia Perché sentete quella di qua E' quella di qua E' qua Guarda lo sento io Ma è bravo che ha figlio Ok Un attimo spostano Come non lo spostano io? E' con la zanna E' raffreddata Tutto bene No amore ho figlio Avete finito? Brave Ho fatto poco Forse un po' ne arriva un'altra Perché qua in questa casa Non si fa altro che stendere Ma non stai Mi hai attaccato il ventilatore Ah Ah si si Ma ti guarda più veloce Molto molto meglio Manca solo una cosa Adesso Che accade tutto qui eh Come ti faccio quello piano? Piano? Sto perdendo la parrucca Adesso sto molto meglio Veramente Quasi Sono quasi a posto Sono quasi rilassata Ma devo solo fare un po' L'ultimissima Ultimissima Cosa Vai Bambini Vale Non sta tanto mica bene Io Sto qui era meglio che la spendevo io Ma niente Ok Ok Adesso Io Bambine Sto quasi quasi Bene Bene Ma cazzo L'ultima cosa Poi ho finito Veramente Poi secondo me Mi riprendo proprio Totalmente C'è da pulire il bario Andiamo Io ho fatto l'altra volta Ma Non puoi pulirla tu Come si pulisce il bario Mi ha fatto Io lo spieghi tu Allora Sai tu Ok cucciolini Mi hanno anche steso i panni Quindi direi che Sto proprio centrando Il mio obiettivo Mi hanno anche acceso il ventilatore Nel caso in cui stessi piangendo Perché ho troppo caldo Panni stesi E adesso manca L'ultima cosa Andare a lavare il bagno Ok cucciolini Sono in bagno Adesso Inizierò a piangere Di nuovo Perché devo pulire il bagno Vediamo se le bambine mi sentono Ma sanno già che appunto Devo pulire il bagno E si erano già offerte volontarie per farlo Quindi secondo me Ci vorrà poco Ok E il bagno No Avevo pulire il bagno Devo andare a prendere uno straccetto Io non c'ho voglia Anche questo Anche questo Anche questo Anche questo Mi potevano aiutare le bambine A fare anche questo Ehm Ehm Perché Avevo pulire il bagno Non so Ti avevo detto Ma poi mi viene una depressione Vediamo lui Dai Anni prendi lo spray Brava amore Brava amore Brava 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 Allora Io spruzzo Che bella collaborazione Sì sì Bravissime Bravissime Brave 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 Mi sta passando Mi sta proprio passando Ah Bravi Brave 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 Mi è passato Tutto Ok cucciolini Avete visto come si fa A ingannare Vanessa e Anastasia Scusa Esatto Perché questo video È un prank È uno scherzo Che io vi ho voluto fare Grazie Grazie Mi è piaciuto lo scherzo Sono stata brava Ecco Mamme come me Depresse Piangete ogni tanto Così i vostri figli Forse si impietosiscono E vi danno una mano Perché le vacanze Non sono soltanto vostre Ma sono anche mie Non potete stare tutto il giorno A giocare su un divano E io a cucinare Lavare Stendere Fare e disfare Mi dovete dare una mano Comunque brave Siete state bravissime Continuate così E se questo video Raggiunge I 5.000 like Mi dovrete fare uno scherzo Bruttissimo voi a me Ma brutto 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 Sì Quindi mi raccomando 5.000 like È arrivata mezzanotte Le campane sono in festa Voglio spiare Papo Natale Non ci vedo Niente di male Presto Anastasia Corriamo giù Mamma